Cosa c'è dentro queste scatole? Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio mostrare la mia collezione fisica riguardante Icewind Dale, gioco di ruolo del 2000 di Black Isle, ripubblicato recentemente in una Enhanced Edition. In questo video vedrete il contenuto della scatola originale dell'edizione italiana, quindi vedremo tutto quello che c'è dentro questa scatola e vedete anche la scatola dell'espansione che è un po' più diversa, vedete è in formato DVD, l'espansione si chiama Heart of Winter, anche questa è l'edizione italiana originale. In realtà devo essere sincero di questo gioco esistono anche guide strategiche sia per il gioco base sia per l'espansione. A suo tempo però non le comprai, adesso costano tantissimo, quindi a meno che io in futuro non trovi qualche offerta particolare, magari in quel momento le farò mie ma insomma per il momento non le ho, quindi questo è tutto quello che ho riguardante Icewind Dale. Fatemi sapere naturalmente nei commenti se voi avete altre cose, magari oltre alle guide strategiche mi è sfuggito qualche altro gadget, qualche altra memorabilia. Va bene ma adesso bando alle ciance e scopriamo insieme cosa c'è dentro queste scatole. Signore e signori ecco a voi il nostro materiale su Icewind Dale, la nostra collezione, quindi abbiamo la confezione originale del gioco base e la confezione originale dell'espansione Heart of Winter nella loro edizione italiana. Cominciamo dalla scatola del gioco base. Allora avete, vedete qui sopra scritto il loghetto dei Forgotten Realms, usa il motore di Baldur's Gate. Traduzione di 25th Edition, editor italiano di AD&D, quindi si vantano di avere una traduzione particolarmente prestigiosa. E vedete dietro avete queste schermate di gioco. E leggiamo un po' cosa dicono. Il destino di Farron giace sotto la spina dorsale del mondo. Fa sempre un po' ridere secondo me quando vengono tradotti in italiano certi nomi fantasy. Oggi non prenderei mai un gioco come questo in italiano per nessun motivo. A costo di pagarlo il doppio lo prenderei in inglese, anche dal punto di vista della scatola dico. Nelle frange più settentrionali dei reami perduti si trova la fredda e selvaggia regione conosciuta come Valle del Vento Gelido. Spingiti all'interno delle montagne della spina dorsale del mondo, un territorio duro e spietato, pieno di creature spaventose e crudeli. Lì dovrai affrontare un antico male che minaccia di diffondere un orrore indescrivibile sull'intera Farron. Vabbè, non originalissimo, diciamo, come spunto iniziale. Vediamo cosa dice. Combatti contro troll dei ghiacci giganti e orde di terrificanti non morti. Più di 70 nuovi tipi di mostri metteranno alla prova il tuo valore durante i combattimenti in tempo reale realizzati mediante l'adattamento di Baldur's Gate del sistema di gioco di Advanced Dungeons & Dragons. È interessante perché qui il termine nuovo è usato in riferimento a Baldur's Gate, come se questo fosse quasi un seguito, no? Anche se in realtà si tratta di due giochi diversi, diciamo, basati sullo stesso motore, sullo stesso regolamento, ma molto diversi fra loro, eh? Parliamo meglio di tutto questo nel video con il nostro parere. Noi qui facciamo la nostra bella video recensione. Andiamo avanti. Viaggia attraverso un'infinità di paesaggi mozzafiato e di luoghi magnificamente renderizzati. Esplora la regione conosciuta come Valle del Vento Gelido, visitando templi magnifici, antiche rovine, caverne vulcaniche e lande ghiacciate. Il Bioware Infinity Engine dà vita alla Valle del Vento Gelido generando in tempo reale effetti dinamici di luce e di eventi atmosferici con combattimenti eccezionali, incantesimi spettacolari e una giocabilità ricca di effetti visivi straordinari. Beh, ecco, qui francamente è anche troppo, no? Cioè, per carità, è molto bella, eh? Io, guardate che io pagherei tranquillamente nuovi giochi realizzati con questo motore. Li pagherei anche a prezzo pieno e non avrei nessun problema a pagare 50-60 euro. Un nuovo gioco bello, serio, come questo, realizzato con lo stesso motore di gioco. Quindi la mia non è necessariamente una critica all'insieme, però ecco, non definirei certo questo motore come virtuosistico dal punto di vista degli effetti, insomma, degli effetti grafici, no? Ma non era virtuosistico neanche all'uscita, non è un problema di età, diciamo. Piena compatibilità per multiplayer fino a sei giocatori, vabbè, questo ecco, noi non l'abbiamo mai provato. La progressione dei personaggi fino a alti livelli e le avventure impostate sul gruppo ti permettono di sviluppare protagonisti di incredibile potere e abilità. Sì, in effetti, in questo gioco si raggiungono livelli molto alti, soprattutto con l'espansione installata. Va bene, vediamo se troviamo i requisiti. Saranno qua, ecco le qua, requisiti di sistema. È difficilissimo leggerli. Ci proverò. Allora, Windows 95, vabbè, Pentium 2 a 233, non so cosa, MHz, presumo, 32 MB di RAM, 600 MB di spazio libero su hard drive, lettore CD, scheda audio, bla bla bla, vediamo i consigliati, Pentium 2 266, 64 MB di RAM e 800 MB di spazio libero sul hard drive. Va bene? Vabbè, sì, requisiti assolutamente, assolutamente molto bassi per gli standard odierni, anche se usate l'Enhanced Edition, ha requisiti un po' più alti di questi, se non ricordo male, però insomma, vabbè, per i sistemi odierni rimangono comunque bassi. Per i canoni, gli standard odierni rimangono comunque bassi. Bene, allora, scopriamo cosa c'è dentro questa bella scatola, come non ne fanno più ai noi, va bene? Oggi questa sarebbe una ultra luxury collector's edition, no? Che costerebbe un occhio della testa, invece, invece all'epoca era assolutamente una confezione normale, diciamo, di gioco. Allora, cosa abbiamo? Intanto abbiamo una mappa, ma ve la faccio vedere dopo. Abbiamo, guardate, i CD di gioco, eccoli qua, poi abbiamo il manuale di gioco, eccolo qua, poi abbiamo una scheda di consultazione rapida, guardate, e abbiamo anche un addendum. Sapete che non ho idea? Cos'è l'addendum? Vedete, c'è questo foglietto che non riesco neanche a prendere, peraltro, ok, ce l'ho fatta. Cosa dice l'addendum? Icewind Dale non supporta ufficialmente la modalità di gioco in 3D. Se dopo aver attivato le OpenGL o i file di supporto per una scheda 3D, doveste riscontrare problemi con la grafica e il fondo del gioco, assicuratevi che vi deve installato la versione più recente dei driver per la vostra scheda video. Se il problema dovesse persistere, procedete disabilitando. Ah, ok. Si lavano le mani sul fatto che l'opzione, perché c'è anche la possibilità di visualizzare tridimensionalmente, tipo la Fog of War, alcuni incantesimi. Sì, in effetti mi ricordo che non funzionava benissimo. Forse io l'ho sempre provata, ma poi disattivata, creava artefatti grafici. Vabbè, non è supportata ufficialmente. Se ne lavano le mani, in pratica, va bene? Non è più un problema oggi con la Enhanced Edition, tutto ciò. Anche se credo che, sapete che questo è un tema interessante, magari qualcuno di voi più esperto da questo punto di vista può aiutarmi, ma credo che le Enhanced Edition di questi giochi abbiano totalmente abbandonato qualunque renderizzazione in 3D di qualsiasi cosa. Quindi in realtà non è che oggi abbiano risolto questi problemi di compatibilità che c'erano all'epoca con queste opzioni tridimensionali. Le hanno proprio tolte da quello che so io. Però magari sto dicendo delle idiozie, non sarebbe la prima volta, quindi in caso correggetemi. Allora, da cosa cominciamo, signori? Diamo un'occhiata al manuale. Cosa ne dite? Allora, vi faccio vedere il manuale un po' più da vicino. Vediamo un po'. Vedete c'è un bel manuale di un certo peso, quindi vediamo che cosa contiene. Avvisi per la salute, sommario. Allora, introduzione, molto bene. Sapete che quasi quasi vi leggo questa introduzione, vediamo cosa dice. Allora, introduzione. Tra l'altro c'è un carattere piccolissimo, non so se riuscite a... Cioè veramente ci vuole la lente di ingrandimento, quasi. Molti racconti riguardanti il sud delle città, le carovane, le meraviglie di Baldur's Gate e le terre circostanti hanno raggiunto le mie orecchie. Questi racconti non sono più sorprendenti come al tempo del mio viaggio al nord, quando giunsi alle dieci cittadine. Le imprese degli uomini sembrano insignificanti qui, in un luogo nel quale tutto viene offuscato dall'ombra della spina dorsale del mondo. Esistono molte storie che riguardano la spina dorsale del mondo, detta anche dorso del mondo. In alcuni momenti mi sembra quasi che queste montagne non siano semplicemente una catena montuosa. È sufficiente guardarle per sentire la maestosità della loro presenza. Sin dal momento in cui venni ferito in battaglia mentre ero al servizio di Tempus, ho avuto tempo per riflettere sulle virtù e su cosa ci sia di nobile nella vita. In effetti l'unica cosa che mi rimase da fare quando mi fermai stabilmente a East Heaven era scrivere. Quindi all'interno di questo volume sono presentati i miei scritti riguardanti East Heaven, Kuldahar e le terre circostanti. Uno dei capi locali, Rothgar, mi ha fatto dono di alcuni dei suoi racconti e dei suoi consigli, e ho utilizzato alcune delle sue citazioni per riempire le pagine di questo volume. Non tutte le pagine, perché se dovresti trascrivere tutto ciò che mi ha raccontato, le mie e le sue divagazioni riempirebbero un altro volume. Tuttavia c'è la saggezza del campo di battaglia in lui e le sue parole suonano vere. Tenete in considerazione questo volume, imparate le sue vie sulla battaglia e sugli incantesimi, sulle tattiche e sul movimento. Ciò che leggete qui può evitarvi la soglia della morte. La strada per la vittoria è conoscere la vostra forza e usarla come un martello contro i vostri nemici. Se ne siete degni, allora possa il fianco di Veiros essere dalla vostra parte in battaglia. Everard, spada fidata, ordine della lama spezzata, East Heaven. Allora, East Heaven, questo è interessante perché, come dire, stabilisce molti punti di partenza, no? Riguardante la vicenda narrata da questo gioco. East Heaven è la città dove si svolge il prologo, va bene, il tutorial. Kuldahar, un'altra cittadina nominata, è invece il quest hub più importante per gran parte della partita. Quindi per gran parte della partita riceveremo le nostre missioni a Kuldahar. E da lì avremo modo di spaziare, no? Poi in varie altre location, ovviamente. Ice Wind Dale è molto diverso rispetto a Baldur's Gate, quindi le varie ambientazioni vanno attraversate, risolte e in genere non vi si torna più. Quindi ha tutta un'altra impostazione, diciamo, rispetto a Baldur's Gate. Però in alcuni luoghi, per esempio Kuldahar, si torna invece molto spesso. E questo personaggio, Rothgar, che viene citato, è un personaggio molto importante nella vicenda narrata, di cui non voglio anticiparvi più di tanto. Anche Tempus, no? Il dio Tempus è importante nella vicenda narrata da Ice Wind Dale, d'accordo? Allora, leggiamo anche questo paragrafo. Secondo me questo paragrafo può essere interessante perché ha l'aria di collegare i due giochi. Baldur's Gate e Ice Wind Dale. Quando Baldur's Gate uscì sul mercato nel 98 venne accolto con un formidabile consenso da parte della critica. Scusate, non riesco a tenere tutto inquadrato. Molti giocatori di ruolo si divertirono ad avventurarsi nel mondo di Forgotten Realms e ora i Black Isle Studios sono tornati con un altro titolo collocato nella medesima ambientazione. Una nuova esperienza di gioco di ruolo per computer che sarà possibile intraprendere da solo o con i vostri amici. Ice Wind Dale è una saga che mette il destino dei reami perduti nelle mani del vostro gruppo. Innumerevoli vite dipendono da voi e sarà soltanto attraverso il vostro sangue e la vostra perseveranza che i reami perduti potranno essere salvati. Ice Wind Dale utilizza il motore grafico di Bioware Infinity e molte delle meccaniche descritte in questo manuale saranno familiari a coloro che hanno giocato Baldur's Gate e a Tales of the Sword Costa, che ricordiamo è l'espansione di Baldur's Gate ufficiale. Se volete rinfrescare la vostra conoscenza dell'interfaccia sentitevi liberi di sfogliare il manuale e leggere gioco preferite. Le differenze più rilevanti riguardano la sezione degli incantesimi, l'ambientazione del mondo e il piccolo elenco di oggetti arcani alla fine del manuale. Sì, in realtà anche no, le differenze più importanti riguardano... vabbè, insomma, questo gioco fa pensare che i giochi abbiano un'impostazione molto simile se non identica e che le differenze siano solo riguardanti i mostri incontrati, gli oggetti ritrovati, non è così, eh, non è così. Cioè, è così dal punto di vista delle meccaniche, ma il modo in cui il gioco va approcciato è molto molto differente. Insomma, forse avrebbero fatto meglio anche a dirlo, eh, in questa sezione introduttiva, anziché dare l'illusione, no, dare l'idea che i due giochi abbiano una struttura simile, hanno solo un'interfaccia simile, un regolamento simile, ma hanno una struttura molto diversa. Va bene, ovviamente non vi leggo tutto, eh, faccio una velocissima, eh, un velocissimo... così vi sfoglio velocemente questo manuale, qui vedete viene spiegata l'interfaccia. Sarà interessante più che altro vedere se ci sono delle pagine dedicate magari al background in maniera un po' dettagliata. Qui vedete tutte spiegazioni tecniche, le mappe, l'interfaccia, vediamo un po' le scorciatoie, altre funzioni, tasti chiave, informazioni varie, multigiocatore, ecco, questo è tutto un comparto che noi non conosciamo. Ecco, vedete, qui sembra essere spiegata un po' l'ambientazione, no? La spina dorsale del mondo, Ferro nel nord, il mondo, il calendario del nord, con tutti i vari mesi, qui c'è una mappetta, dopo la vedremo meglio, East Heaven, ah, c'è addirittura proprio la mappa di East Heaven con tutti i numerini, vedete? Aspetta che vi zoomo ancora di più. Ecco, se guardate il nostro esempio di gioco, no? Esploriamo ampiamente, diciamo, questo mondo nel nostro esempio di gioco, questa cittadina, no? Taverna della Culla d'Inverno, Locanda della Tormenta, Emporio di Pomav, Casa di Hrothgar, ci sono tante piccole missioni, no? Che possono essere risolte già qui, anche se in realtà è un po' il tutorial, tipo, no? Quando avremo lasciato East Heaven passeremo per il passo di Kuldahar e infine raggiungeremo Kuldahar e anche di Kuldahar c'è la mappetta, guardate, è quasi una guida questo, questo, no? Almeno delle fasi iniziali, insomma, è quasi una guida questo manuale, quindi bello, è interessante. Vediamo cos'altro spiega, Valle delle Ombre addirittura, ecco, la Valle delle Ombre è la prima, diciamo, area importante che ci viene chiesto di ripulire, no? Dopo il tutorial, l'arrivo a Kuldahar, il viaggio, l'arrivo a Kuldahar, questa è la prima area che ci viene chiesto di ripulire. Poi vediamo Bestiario, ci sono un po' di mostri, cos'è accaduto prima e vabbè, qui si torna a spiegare le regole di AD&D, quindi c'era quella parte dedicata all'ambientazione, diciamo, mentre qui si torna a questioni più tecniche e c'è tutta la spiegazione, guardate, questa è molto dettagliata, eh, degli incantesimi. Sperate qual è il problema? Che chissà quante volte sono stati cambiati dalle patch, no? E chissà come sono cambiati anche nella Enhanced Edition, quindi non è detto che queste informazioni siano tutte accurate, però è comunque bello, no? Vedere che c'è questa descrizione così dettagliata, è un sogno oggi, no? Avere un apparato cartaceo di questo tipo. Vedete, tutta questa parte è dedicata agli incantesimi, poi avete armature, armi, beh, mi aspettavo un po' di più, no? Sul riconoscimenti, vedete, e siamo arrivati alla fine. Mi aspettavo sinceramente un po' di più magari sull'ambientazione, meno guida, diciamo, e più, boh, sull'ambientazione, sulle divinità, però comunque è un manuale molto, molto bello, molto... mi piace, sono contento di averlo e sono contento che sia parte della mia collezione. Allora, adesso vi faccio vedere velocemente la scheda di consultazione rapida, che ci richiede però di zoomare in fuori un pochino per vederla tutta. Allora, la scheda di consultazione rapida, vediamo com'è fatta. Ah, è fatta così, non so se riuscite, forse devo zoomare ancora più verso l'esterno per farvi vedere proprio tutta, 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 ecco qua. Vedete, ha fondamentalmente la spiegazione delle icone, vabbè, questa è del tutto inutile, no? Per chi abbia un minimo di confidenza con il gioco, con la sua interfaccia. Icone di condizione del personaggio, vedete, per tirar fuori le armi, incantesimi dei sacerdoti, incantesimi degli stregoni, vabbè, è bello che ci sia, ma insomma non è particolarmente utile. Invece sono molto, molto contento che ci sia questa mappa, che anche questa non è che sia utilissima in game, però avere le mappe dà sempre una grande soddisfazione, no? Oh, allora, cosa apprendiamo da questa mappa? Allora, dunque, East Haven è appunto dove il gioco inizia, no? Kuldahar è il quest hub più importante nel corso del gioco, quindi passeremo tanto, tanto tempo qui a Kuldahar. Poi qui ci sono anche dei luoghi che sono evocati ma non sono in realtà, non hanno una didascalia, no? Per esempio questa è la Severed Hand, mi pare si chiami, è una fortezza elfica, è molto, molto interessante da esplorare questa qui, no? Cioè ogni dito della mano corrisponde a una torre diversa che va risolta, è molto, 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 molto bella, molto, molto interessante. Questo fantasma probabilmente evoca la Valle delle Ombre, appunto. E boh, qui c'è una parte, boh, questi sembrano giganti, no? Guardate, qui è interessante, viene indicato il fatto che in giù c'è l'Ascan. L'Ascan era la cittadina, è rappresentata in Neverwinter Nights, no? Nel primo Neverwinter Nights, è un po' la nemica di Neverwinter ed è collocata a Nord, no? Nella mappa di Neverwinter, quindi in pratica la mappa di Neverwinter la possiamo collegare qua sotto. Va bene? Ecco, è molto bello, no? Che questi giochi siano ambientati nello stesso mondo. Sono giochi diversissimi, però uno si sente subito a casa, no? Perché trova nomi familiari e quindi le tessere del puzzle vanno al loro posto. Diciamoci la verità, questo è anche il motivo per cui, secondo me, hanno così fortuna, per esempio, i giochi della serie di Elder Scrolls, no? È da 25 anni, anche di più, che abbiamo questa ambientazione che viene continuamente sviscerata, no? Di volta in volta in un settore diverso, ma alla fine lamentazione è quella, e quindi ogni volta che approdiamo a un gioco nuovo appartenente a quella serie, sia esso un capitolo principale della saga o un suo spin-off, beh, ci sentiamo subito a casa, no? È tutto così familiare. Bene, signori, l'ultimo elemento che ci resta è il CD del gioco, che adesso ovviamente è assolutamente inutile, però all'epoca era fondamentale. E sono due CD, vedete? CD-ROM 1, CD-ROM 2. Questi sono alcuni dei ritratti disponibili per i personaggi, vedete? Quindi CD1, CD2. E qui dentro credo non ci sia assolutamente nulla, vediamo se c'è scritto qualcosa dentro questo foglio di carta, ma non credo, no, assolutamente no, è del tutto bianco. Bene, signori, questo era, questa era, e questo era il contenuto della scatola originale di Icewind Dale. Questa, signori, è l'espansione ufficiale di Icewind Dale, o meglio, la scatola dell'espansione ufficiale di Icewind Dale, Heart of Winter. Quando uscì a suo tempo, devo dire che io fui molto dispiaciuto dal fatto che uscì in questa confezione simile DVD. Perché i tempi stavano cambiando, no? L'espansione di Baldur's Gate, Tales of the Sword Coast, uscì in una scatola di cartone, identica a quella del gioco base, grande altrettanto, va bene? Quindi sarebbe stato bellissimo, no? Noi ci aspettavamo tutti una retail version simile, no? Anche per Heart of Winter, così non fu, va bene. Questa espansione venne molto criticata all'epoca per la sua brevità, ne parliamo meglio nel video con il nostro parere, e per cercare di metterci una pezza, gli autori pubblicarono una seconda espansione, che in realtà entra all'interno della prima, come in un sistema di scatole cinesi, si configura come espansione della prima espansione, che si chiama Trials of the Lure Master, e che poteva essere scaricata gratuitamente. Adesso è tutto incluso un rischio all'interno della Enhanced Edition di Icewind Dale. Uno dei problemi maggiori secondo noi, secondo me, di questo gioco è il modo in cui le espansioni si inseriscono al suo interno, si inseriscono al suo interno in maniera veramente sgraziata per quanto ci riguarda, ma ne parliamo meglio nel video con il nostro parere. Adesso invece diamo un'occhiata a questa confezione. Allora, anche qua si vantano di avere questa traduzione ufficiale fatta da 25th edition, penso si dica in questo modo, come nella confezione del gioco base. Vediamo cosa dicono qua dietro. Qualcosa di nuovo sta raggelando il cuore della Valle del Vento Gelido. Oltre alla gelida tundra, l'eco lontana dei tamburi di guerra annuncia un nuovo richiamo all'avventura. Nel bel mezzo dell'inverno più duro degli ultimi decenni, le tribù barbare si sono riunite sotto il comando di un nuovo e misterioso re, e minacciano di impugnare le armi contro la popolazione delle dieci cittadine. Guidate dalle visioni di uno sciamano tribale, gli eroi di Kuldahar devono viaggiare verso l'isolata città di Lonelywood. Là devono bloccare l'invasione barbarica, rivelando il segreto che giace rinchiuso nel gelido cuore dell'inverno. Aggiunge 5 nuove aree e molte nuove missioni all'originale Icewind Dale, dice questo elenco. Fatti strada tra una moltitudine di mostri mai visti prima per scoprire oltre 89 oggetti e 50 nuovi incantesimi. Innalza i tuoi personaggi verso nuove vette di potere, raggiungendo il ventesimo livello e oltre. La risoluzione 800x600 e le finestre di interfaccia scomparsa, sviluppate dalla Bioware Corporation per Baldur's Gate 2, danno una panoramica sempre più ampia dei Forgotten Realms sullo schermo. Supporto potenziato dell'accelerazione 3D, software manuale in italiano richiede Icewind Dale. Ecco, interessante perché il gioco base Icewind Dale usava il motore del primo Baldur's Gate. Con la pubblicazione di questa espansione, invece, si è passati per anche il primo gioco, cioè per il gioco base, i contenuti del gioco base, al motore di Baldur's Gate 2, che guardate che fa parecchia differenza, perché supportava risoluzioni più elevate, permetteva di far sparire l'interfaccia, introduceva nuove animazioni, quindi il motivo principale per cui comprare questa espansione, non erano tanto i nuovi contenuti che in poche ore venivano risolti. Era più che altro l'upgrade del motore che veniva effettuato, ripeto, anche per le aree del gioco originale, per tutto il gioco veniva effettuato questo upgrade. Quindi devo dire che la quality of life, la qualità dell'esperienza dopo aver installato, io c'ero, dopo aver installato a suo tempo questa espansione, beh, migliorava moltissimo appunto l'approccio verso Icewind Dale. Allora, andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione, eccola qua, c'è una bella custodia trasparente, guardate qui c'è il CD di gioco e guardate dietro c'è la pubblicità dell'edizione per collezionisti di Baldur's Gate 2, Shadow Zolan, che noi abbiamo e che vi mostreremo in futuro, in un futuro speriamo non troppo remoto, quindi questo è il CD di gioco, mentre dall'altra parte avete, vedete, il manuale e anche una scheda, credo, di consultazione rapida. Vediamo se le versioni incollate assieme, eccolo qua, una scheda di consultazione rapida, vediamo cosa c'è da questa parte invece. Ah, pubblicità di altri due giochi, guardate, Giants e Sacrifice, due giochi che non ho giocato e che presumo siano degli stessi pubblicatori, dell'Interplay, sì, sono tutti e due i giochi dell'Interplay, magari qualcuno di voi li ha giocati, io non ho idea di cosa siano. Questo è il manualetto, vedete, più sottile di quello che abbiamo visto nel gioco base, vediamo che cosa, che cosa dice. Heart of Winter, vediamo un po', riguardo Heart of Winter, allora, vediamo cosa dicono. Heart of Winter può essere giocato in contemporanea con Icewind Dale o dopo che avete concluso Icewind Dale. Se ancora non avete completato il gioco originale, le aree vi verranno resi disponibili tramite Kjolder, uno sciamano barbaro che apparirà in una delle case di Kuldahar dopo che l'espansione verrà installata. La casa di Kjolder, dove comparirà Kjolder, era chiusa nel gioco originale e non esisteva modo di aprirla. Essa verrà automaticamente aperta una volta che l'espansione sarà installata, è vero, c'era questa casa con la porta sbarrata che non poteva essere aperta in nessun modo e, insomma, c'era già il sospetto che quella casa sarebbe servita a qualcosa con l'espansione, no? Infatti, così è stato. Notate che i vostri personaggi dovranno essere almeno di nono livello per spostarsi nelle aree dell'espansione tramite lo Kjolder. Nel caso di personaggi multiclasse, il limite di livello è uguale alla somma dei loro livelli. Certo, questa è un'espansione per personaggi di livello molto alto, quindi in realtà la cosa migliore è quasi finire il gioco originale e fare a quel punto il contenuto dell'espansione, va bene? E dopo aver fatto l'espansione. E all'interno dell'espansione bisogna quasi finire l'espansione e poi cominciare la seconda espansione, quella gratuita di cui parlavo prima, Trials of the Luremaster, e dopo fare il finale di Heart of Winter, e dopo fare il finale... come vi ho detto, è veramente sgraziato il modo in cui le espansioni sono introdotte e gestite in questo gioco. Vabbè, andiamo a vedere cos'altro c'è. Qui è indicata nella mappa la casa da cui si può poi accedere alle aree dell'espansione, giocare a Heart of Winter, creazione di personaggio, capacità speciali... ecco, queste sono le novità, diciamo. Quindi per esempio ci sono nuove abilità per i paradini, nuove abilità per i ranger... ecco, una con cui mi divertivo molto, per esempio, delle nuove abilità per i ranger introdotte dall'espansione è seguire tracce. Una volta entrati nella mappa, bastava cliccare questa abilità, attivare questa abilità, e il ranger usciva una schermata di testo in cui diceva che il ranger guardando le tracce capiva che in quella mappa c'erano goblin, orchi, draghi, cioè... anticipava, spoilerava, diciamo, il tipo di nemici presenti in quella mappa. Non utilissima, ma divertente, no? Ambientata, ecco. Molto ambientata, non utilissima, ma molto ambientata. Poi, ladri, bardi, ecco, i bardi sono stati cambiati completamente per dargli più potere, no? Con l'espansione, quindi avevano non solo, semplicemente, la canzone del bardo, quell'unica opzione che li rendeva anche un po' noiosi da usare, ma varie canzoni del bardo fra cui scegliere. Nuove caratteristiche di gioco, incantesimi, e qui c'è tutta la lista degli incantesimi che presumo occupi tutto il resto del manuale. Vediamo se è vero, sì, beh, ci sono delle tabelle qui alla fine, vedete. Vediamo se... Ah, no, ma attenzione, fermi tutti. L'Hollywood, c'è anche una sezione di guida, vedete, un po' come nel manuale del gioco base, no? Quindi c'è un po' una guida, vedete, la mappetta del nuovo villaggio, con i numerini, vedete l'ocanda del patibolo fischiettante, delle belle storielline da leggere, questo è bello, no? Questo è molto, molto interessante, apprezziamo moltissimo questi momenti di racconto, no? Che evocano meglio l'ambientazione del gioco, bravi. E infine c'è questa scheda, come dicevamo, di consultazione rapida, diamoci un'occhiata, presumo sia molto simile a quella del gioco base, e infatti lo è, vedete. Qui ha delle scorciatoie da tastiera, le icone dell'interfaccia, qui tutta una serie di, vedete, incantesimi elencati proprio per livello, d'accordo? E questi signori, questa signori, era la nostra collezione relativa a Icewind Dale. Bene signori, e questo era il video con la nostra collezione appunto relativa a Icewind Dale. Voi avete qualcos'altro? Mi raccomando, se vi interessa questo gioco, date un'occhiata anche agli altri video che abbiamo qui sul canale dedicati ad Icewind Dale. Abbiamo un video in cui vi mostriamo il gioco in azione, abbiamo un video in cui vi diamo il nostro parere su questo gioco, vi facciamo una bella video recensione, e sul sito lamascherariposta.it trovate due recensioni dedicate ad Icewind Dale, una pensata per il gioco originale e una invece dedicata alle novità introdotte dalla più recente Enhanced Edition. Quindi andatevi a leggere anche quelle recensioni, se volete vi metto tutti questi link qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio molto per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, e se vi piacciono i nostri video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche. Mosè dalla Maschera Riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video.